In occasione del giorno del ricordo, istituito con la legge 92 del 30 marzo 2004, il comune di Bacoli, il coordinamento regionale dell'Unione degli Striani, hanno commemorato stamattina le vittime del massacro delle foibe e ricordato l'esodo Giuliano Dalmata con una manifestazione pubblica. La deposizione della corona di Alloro presso la piazza intitolata ai martiri delle foibe a Miseno all'interno della villetta comunale. A distanza di un anno dall'intitolazione ufficiale di uno spazio dedicato al ricordo degli italiani soppressi e infoibati in Istria, a fiume, in Dalmazia e nelle province attuali del confine orientale, il sindaco Giosi Gerardo della Ragione, il dottor Giuseppe Sartore, coordinatore per la regione Campania dell'Unione degli Istriani, hanno organizzato la cerimonia di commemorazione di ricordo di Giovanni Palatucci, questore di fiume morto il 10 gennaio del 45 nel campo di concentramento di Dachau. Presenti al momento di ricordo i giovani del liceo statale Seneca di Bacoli, questore di Napoli Alessandro Giuliano, Daniele Coppin, in rappresentanza della comunità ebraica di Napoli. Il ricordo del poliziotto eroe nelle parole del questore di Napoli. La memoria è importante perché la memoria è impegno per noi, è ricordare cosa va fatto e cosa non va fatto. La figura di Palatucci è una figura fulgida perché ispira i più alti valori della solidarietà, di proteggere chi ha bisogno e di difendere i più deboli. In questo caso Palatucci, come ho detto, la figura di Palatucci sottolinea ciò a cui noi più crediamo e c'è la necessità di essere solidali, di difendere i più deboli, di non temere le prepotenze.